Un'ultima funzionalità sulla quale concentro la mia attenzione è quella che io ero abituato ad avere sulle macchine Panasonic, ovvero la possibilità di vedere attraverso questa modalità visiva dove sto mettendo a fuoco. Andando nel dettaglio per esempio di queste immagini, quindi vado a prendere un dettaglio applicando lo zoom digitale, come vedete a secondo del movimento che faccio sulla chiera della messa a fuoco mi fa vedere in che punto sto concentrando il fuoco. Questa è veramente una nuova funzionalità molto interessante perché finalmente dà la sicurezza di ciò che sto mettendo a fuoco, cosa che non era possibile con la vecchia 5.